puntata numero 123 questa del duemila e ventitré quella che andrete ad ascoltare a vedere è come state già notando è collegato con noi un amico che ci è venuto a trovare nuovamente lui è Maurizio Maurizio Martini ciao Maurizio ciao Salvo come stai bene bene tu tutto bene bene cominciamo a stare bene se arriva quest'estate ce la sta facendo veramente penare diciamo arriverà arriverà e poi magari forse ci lamenteremo del caldo probabilmente sempre così poi l'effetto è quello l'inverno è il freddo e il caldo poi ma tu ci hai anticipato e sei andato oltre come sempre infatti vediamo alle tue spalle è una bellissima foto che poi non è altro che la copertina del tuo ultimo singolo che si chiama profumo e c'è proprio un profumo in mezzo alla sabbia con in fondo eh si vede il mare ecco quindi già tu sei in pieno mood estivo assolutamente assolutamente e volutamente perché sai tutto quello che abbiamo passato poi qui sono molto vicino a tutto quello che che abbiamo visto quindi l'ho vissuta un pochino più da vicino e c'è stata tanta tanta paura però bisogna tornare a sorridere a rimboccarsi le maniche e ripartire e aspettare questa nuova stagione questa nuova sensazione di profumo in questo caso ti ricordi? Sì profumo che non deve essere obbligatoriamente una boccettina con dentro un liquido profumato ma possono essere anche i profumi che la natura ci emana che il tempo ci emana il maggio il giugno no? Eh noi abbiamo la fortuna di vivere in questa penisola che è bellissima piena appunto di profumi no? Da una sponda all'altra da un pizzo all'altro eh è meravigliosa tutta quindi eh quale fortuna migliore e quale eh titolo migliore potevi dare al tuo singolo come profumo no? Il profumo di quest'Italia e il profumo della vita. Esattamente esattamente. È scritta da Franco Berrettoni e Giovanni Giungi e mi hanno fatto appunto questo bel regalo di questo bellissimo brano ed è arrangiata da Marco Ferracini che è il collaboratore anche di Malgioglio, di Cristiano Malgioglio. Sì. Quindi insomma una bella operazione, un bel sinergia si è creata tra di noi e abbiamo riproposto questo questo brano che pensa è praticamente è stato creato quasi per farlo suonare dalle dalle orchestre per le ballere. Quindi io ho avuto prima questa sensazione che ho voluto dargli un vestito in inizialmente reg. Poi dopo abbiamo voluto con Marco provare questo questo tempo ritmo reggaeton insomma che è proprio per l'estate e quindi quale cosa migliore del momento insomma proprio richiama quasi al movimento al ballo al ritmo e ai profumi dell'estate anche che ci lascia. Assolutamente speriamo che sia di buon auspicio per farlo ascoltare in tutte le spiagge italiane non solo in modo che ognuno possa godere di fumo che già lo potete trovare su tutti gli store digitali e anche su YouTube e che il buon Maurizio ci ha regalato ancora una volta un altro brano. Noi ci siamo visti l'ultima volta che era in compagnia di Tiziana Rivale e che salutiamo naturalmente e quindi Maurizio ti stai nuovamente dilettando oramai a 360 gradi nuovamente a tornare quello che più hai amato nella tua vita cioè la musica. Assolutamente sì guarda poi pensavo sempre guarda Maurizio M musica M quindi siamo proprio un binomino faccio Martini di cognome quindi tre M proprio. Non ne puoi fare almeno non ne posso fare almeno anche volendo toglierla ma proprio guarda è la cosa che amo di più proprio nella vita cioè al mondo quindi è proprio lei che mi ha ripreso ha detto vieni qua dove vai capito cioè dove pensi di andare perché l'avevo abbandonata io per molti anni per molto tempo ma poi ho detto tu sei mio vieni e io ho detto subito sì ovviamente sono tornato. Assolutamente Maurizio adesso io non voglio far fare i conti alle persone no ma da quel 1977 cioè da quando tu iniziasti comunque in qualche modo ad avvicinarti al mondo della musica iniziati con The Music Hall se non erro però sempre di musica parliamo no? Ecco cosa cosa ricordi di quel Maurizio e il Maurizio di oggi? Quel Maurizio lì era proprio cioè andava così a briglia sciolta braccio era una fan prodice era un ragazzino pieno pieno di voglia di fare spettacolo di idee e naturalmente è quello lì che che riusciva a montare da solo in quell'età così giovane anche delle cose così fatte così bene così importanti che poi giravano erano anche altri tempi per affrontare certe produzioni certe avevamo anche un pochino più le possibilità di porte aperte perché adesso è tutto un po' più difficile siamo tornati sempre più alla raccomandazione a quello che servono i soldi le pubblicità le cose cioè è un pochino quasi una lotta a fare a gomitate no? In qualche modo per per potersi far notare per i social e anche colpa del sovrappollamento in qualche modo Maurizio esatto però questo Maurizio di oggi devo dire che è quello che 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 raccoglie un po' tutte le esperienze di quel Maurizio lì capito quindi eh le mette più a disposizione e le 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 offre anche agli altri gratuitamente cioè la sua esperienza io spesso parlo anche con i ragazzi con delle ragazze che vogliono fare non so il cantante o la cantante eccetera e do dei consigli sani cioè dei consigli ehm disinteressati spassionati sinceri anche duri a volte però molto molto leali capito quindi ecco forse sono una persona oggi più matura ovviamente dato dall'età se no il Peter Pan sempre spunta da qualche parte però in qualche modo ha a più concretezza perché se tu immagini anche questo tipo di collaborazioni ultime no che ho avuto eh con questi grandi arrangiatori che ho avuto vicino eh anche loro poi io sono sempre quello che si fa indietro capito che si fa piccolo in qualche modo nonostante la mole che ho però eh invece loro poi mi tirano fuori le le qualità che invece ci sono e c'erano già capito penso proprio dalla nascita erano già lì pronte per essere messe lì a usate in qualche modo volevo dire capito assolutamente assolutamente non solo parliamo di musico di musicista ma parliamo secondo me eh quando si nomina Maurizio Maurizio Martini si parla soprattutto di un di un uomo di spettacolo in qualche modo di uno showman anche perché non sei rimasto attaccato alla musica o al musical addirittura ti sei inventato negli anni ottanta eh i primi mix tra video no e quindi nasce il VJ Mauri eh dove miscelava questi video mentre gli altri ancora erano lì col vinile no? Esattamente esattamente quindi già facevo ballare nelle discoteche perché io frequentavo da ragazzo queste discoteche eh da ragazzino forse avevo quattordici anni tredici quattordici anni più o meno quando si andava anche il sabato pomeriggio il tempo del periodo della febbre del sabato sera no? E lo dicevo anche quando ero con Tiziana qui ospite da te e praticamente da lì mi mi vedevo questi nuovi video che arrivavano e dicevo ma che bellezza sarebbe unirli insieme perché sennò lì c'era il classico DJ re della notte no? Eh DJ che era sovrastava tutti e stava lì in alto anche lo mettevano molto in alto all'epoca per quelli per quegli anni e poi dopo mi venne in mente appunto nei primissimi anni ottanta proprio ti sto parlando dell'ottantadue eh di fare questo messaggio tra video e non c'erano i mix video capito? Poi dopo li hanno inventati dopo io addirittura avevo il telegiornale del giorno che che uscì in pubblicità il primo mix video capito? Quindi erano proprio le idee e questo sempre lo dico vedi con le interviste belle come questa con te io ho l'opportunità di far capire che le idee sono quelle che poi fanno muovere eh in questo caso direi il mondo ma nel senso si parla del mondo artistico dello spettacolo ovviamente se non inventiamo la ruota no? cioè in qualche modo però anche queste fanno parte me ne accorgo che perché tante cose arrivano molti anni dopo e questo poi se ne occupa proprio l'industria è vero è vero anche il genio incompreso in qualche modo sì ma più che il genio incompreso io credo che tu come tanti sia stato compreso semmai sfruttato nel senso che eh io dico sempre che i pionieri poi alla fine vanno sempre con le tappe al culo scusa l'espressione no? E quindi come come grandi cercatori d'oro no? Hanno aperto le strade poi alle multinazionali e chi si sono arricchiti sono gli altri no? È la stessa identica cosa e ne so qualcosa pure io quindi quindi va bene. Ci si capisce Salvo. Sì sì assolutamente. Questo però fa onore e non siamo qui a fare i lamentosi ma invece no 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 lo posso far capire no no ma lo dico proprio perché tanto poi l'orgoglio di quello che uno fa al fine eccolo lì vedi adesso restano le cose io avevo gli spettacoli i primi spettacoli di cui parlavi tu che se avessimo avuto le telecamere di oggi i droni una compagnia che girava forse che ne so non dico tutta l'Italia ma anche pure fuori all'estero capito? Assolutamente. Per tutto l'anticipo che abbiamo dato cioè veramente sono d'accordissimo con te però poi sai alla fine comunque le cose rimangono e quello che mi piace comunque quando intervisto delle persone degli artisti come te sì è d'accordo andare ad analizzare un attimino il singolo che si sta proponendo però per molti magari non direbbe nulla no? Quindi presentare e raccontare dell'artista che sta dietro a quel singolo secondo me è una cosa importante e dà anche più valore e anche un senso al singolo stesso no? Grazie anche per queste due parole ma sei incredibile perché servi veramente l'artista per quello che cerca e che sente che ha bisogno capito? Quindi che cosa succede? Che pure questo fa parte del discorso che io faccio anche canzoni e molti lo sanno molto semplici, easy, facili di facile ascolto ma in realtà forse la mia anima non è così cioè nel senso che posso potrei anche cantare canzoni più impegnate e a volte lo faccio qualche volta metto il pezzo come per esempio film prelude fa capire che c'è anche l'autore c'è anche l'interprete capito? E non soltanto la canzonetta che fa comunque compagnia e fa battere il piede e fa muovere e ballare però c'è anche l'artista che comunque è cresciuto e maturato capito? Assolutamente assolutamente parliamo eh stiamo continuando a parlare appunto di Maurizio di Maurizio Martini che potremmo dedicargli a meno due tre puntate voglio dire per parlare anche perché c'è anche eh ci sono anche gli anni beh sei stato aiuto regista di Leopoldo Mastelloni voglio dire grande amico cioè grande situazioni che ti hanno visto in qualche modo protagonista di quell'epoca no? Esatto e lui che poi mi inseriva e mi presentava cioè io sono arrivato a conoscere Fellini forse nessuno l'ha mai sentito nelle mie interviste sono arrivato alla Masina capito? In camerino con padroni Giuseppe padroni Griffi altro grande regista cioè tanti non sanno che ero magari andavo a prendere non so il tè a casa di Flora Mastroianni capito? Cioè tutte queste cose il pubblico o il mio pubblico ancora non le sa non mi conosce e questo è aggancio forse non so adesso se il nostro tempo è terminato ma lo dico importante io lo chiamo la curiosità ragazzi amici perché la curiosità fa spolverare fa vedere fa conoscere e allarga anche la mente oltre che il cuore. Assolutamente quello è importantissimo conoscere chi ti sta davanti è la cosa più importante e credo che ci sia in questo lavoro a 360 gradi. Un'ultima battuta Maurizio perché ti ripeto io parlerei tantissimo tempo con te però il nostro tempo sta per finire ahimè Maurizio Martini in tutti questi anni c'è una cosa che invece avresti voluto fare e ancora non sei riuscito a fare? Avevo iniziato poi purtroppo è arrivata la pandemia io avevo portato dopo tanti anni che era pronto ma proprio tanti tanti anni guarda come ritorno al futuro no quando feci il primo disco soli uscì il giorno che avevano la data ma guarda poi questi sono il destino le coincidenze salvo per farti capire cioè io sono uscito con soli nel 2015 quando c'era la data del futuro sai quando la macchina del futuro va proprio quel giorno uscì il mio disco quindi proprio come se dal passato mi fossi trapiantato poi nel futuro e quindi il mio spettacolo soli portarlo in giro perché avevo iniziato e poi è arrivata la pandemia e ha soffocato tutto quello che era già in piedi avevo già iniziato a fare fatti molti molte persone sono venute a vederlo ed era anche molto stato apprezzato ed era piaciuto quindi ecco forse riportare soli ampliato perché con tutti i brani che ho fatto poi in questi ultimi tre anni capito e logicamente si è arricchito lo potrei far diventare quasi uno spettacolo di due ore da un'ora e venti un'ora e mezza che era capito dai noi ti auguriamo che questo sogno si possa avverare naturalmente noi siamo convinti che che tu ci lavorerai che ci metterai sempre la tua passione e la tua professionalità anche perché come diciamo sempre chi si ammala di musica non guarisce mai quindi quindi sarà così maurizio grazie grazie davvero per essere stato con noi riportiamo ancora una volta profumo la copertina dietro le spalle di maurizio e tutti gli store digitali e anche su youtube e quindi vi invitiamo ad ascoltarlo a mettere online che naturalmente se potete condividete online maurice è stato veramente un piacere come sempre spero di ritrovarti ancora qui a stare la grazie grazie salvo ciao a tutti gli ascoltatori ciao è un grazie va anche a voi ci seguite sempre ma come diciamo seguite loro la prossima ciao alla prossima non saprà più dove andare cosa fare se scappare verso quell'immenso mare mare